Salve, salve Marco Calabro, ci troviamo oggi, siamo a Siviglia, Spagna, e sono venuto perché è in provisione un viaggio con i nostri clienti e volevo rendermi conto, insomma, io so che Siviglia è una delle città più belle d'Europa, però non immaginavo, insomma, sono rimasto veramente molto sorpreso. Qualcun mi trovo in piazza Spagna, vi faccio vedere la piazza, è stata definita una delle più belle piazze d'Europa ed effettivamente è così, è senza ombra di dubbio una piazza straordinaria. Pensate che là sotto ci stanno anche, vedete i ponti, perché ci stanno dei canali e dietro quella carrozza che sta passando, ci stanno, ecco, vedete, forse si arrivano a vedere delle barche e sono venuto qua perché, insomma, abbiamo visto, abbiamo fatto una selezione, abbiamo sentito pure le opinioni, le recensioni, abbiamo letto e abbiamo trovato praticamente tre alberchi nel casco antico che è la parte dove vorremmo portare gli ospiti, insomma, perché qua bisogna secondo me viverla così come si vive l'Andalusia, con un albergo, con un patio, con una struttura insomma adeguata, anche perché qua tutto quanto era chiuso nel casco antico, tranne questa la piazza di Spagna dove ci stanno, arrivano anche le automobili, ma tutto il resto praticamente sta in una zona dove si può camminare solamente a piedi, oppure vedete nell'area centrale, insomma, della città, questo casco antico, ci stanno veramente tante, tante carrozze. Quindi non era possibile, c'erano degli alberghi di quelli, sai, le strutture internazionali, insomma, che avevano tante soluzioni, qua siamo sul lato delle barche, adesso vi faccio vedere, che c'erano tante soluzioni, però secondo me bisognava stare nel casco antico, cioè bisognava dormire nel centro storico della città, in modo che riusciamo a vederla tutta quanta, vedete qua alle mie spalle, vedete le barche là, veramente straordinaria questa piazza, veramente molto bella. Niente, io sono, questo è il primo giorno che sono qua, sto praticamente in tre giorni sto cambiando tre alberghi per vedere alla fine quale sarà, insomma, più adatto al nostro viaggio, e però sono veramente rimasto molto, molto impressionato dalla città, poi tra l'altro veniamo, insomma, con un volo diretto e questa è una grossa comodità, e niente, nient'altro, adesso ho cominciato anche a vedere qualcosa per il mangiare, perché anche quello, la cuscina spagnola ha delle tradizioni straordinarie, devo dire che qua ho visto tantissimi, tantissimi ristoranti italiani, insomma, uno non viene a Siviglia per mangiare italiano, magari possiamo, fino a una sera possiamo mangiare una pizza, insomma, però vediamo per provare la cucina andalusa, la cucina di qua, e vi voglio far dare un'ultima occhiata a questa piazza, è veramente straordinaria, ma poi a particolari, non lo so, vediamo se riesco a farvi vedere, guardate qua, guardate questo lampione tutto quanto realizzato in ceramica, vediamo se riesco. guardate che lavoro se l'ordine, e questa è la, è la piazza Spagna di, che è stata definita una delle più belle piazze europee, è vero, la piazza Spagna di Siviglia, torneremo insieme dopo questa mia, questa mia perlustrazione per organizzare questo viaggio, io faccio sempre così perché ho imparato nella vita che bisogna, le cose bisogna provarle personalmente, insomma, non sono le agenzie di viaggio che magari quelli ti vendono quello che vogliono loro, no, le cose bisogna vederle. bene, in questi giorni realizzerò anche altri video, insomma, dei posti che io penso che bisogna vedere, insomma, qua a Siviglia.